potente a pala ragazzi qua xd sono qui a presentarvi questo mio veloce video perchè bene si ragazzi ho montato l'xbox one come potete ben vedere l'ho montata sabato quando è venuto appunto margo zinci a casa mia dopo la nostra partita di calcio e appunto ora sto giocando come potete dire a fifa che ho utilizzato che ho avuto come vedete la gratis beh gratis per modo di dire perchè l'avevo pagato comunque 70 euro per l'xbox 360 e comunque questo qua è il video del mio primo pacchetto appunto su questo gioco questo video su questo gioco scusate sulla questa console questo video guardate che roba si riflette oh my god questo video lo metto sul primo canale perchè? perchè voglio dirvi che rinizierò a fare il pack of the day sul secondo canale che è oaxelv2 il link lo trovate in descrizione o in alto a destra ricordate di iscrivervi ma lo rinizierò proprio da zero non cancellerò ovviamente gli altri episodi ma dato che si spera in una nuova rinascita allora inizierò da zero quindi episodio 1,2,3 e così via quindi ragazzi allora pacchetto ma si dai ne apro 2 primo pacchetto della xbox one vediamo vediamo se è fortunato innanzitutto se vi state chiedendo perchè registro col telefono è perchè non mi è ancora arrivata l'elgato vediamo oh my god ah 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 pazzini allora io però pensavo che di essere un po' più fortunato in questa console quindi pacchetto veramente veramente schifoso però ne vado ad aprire un altro mi sembra anche giustissimo giusterrimo dai 1 perchè questo era gratis si sa che in quei gratis non si trova mai niente primo mio vero pacchetto pagato da me quindi su xbox one potete ben vedere eccola qua qua erano le cose perchè magari ragazzi dirmi anche se volete un video su chat roulette cosa è successo oh my god oh my god oh my god che schifo ragazzi magari dazio che io ancora devo fare il ringraziamento per i 20 meno iscritti ditemi se volete un video su chat roulette boh magari sempre con marcosin ci lo invito qua l'altro giorno e quindi appunto fatemi sapere quindi ragazzi i primi due pacchetti sono stati a me sfortunatissimi comunque detto questo io vi saluto e vi dico potente a palazzi dentro al prossimo video bolla